ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio con maronski qui sul regno di bunny barbie come va spero tutto bene tutto tutto bene siamo tornati qua alla base avete visto eh sì perché ho deciso di fare qualche modifica in particolare andiamo a fare una bella modifica qua queste lanterne perché utilizzeremo le nuove catene cominciamo togliendo tutto perché in effetti era diventata un po scomoda questa sistemazione ok qua è abbastanza buio però vedete che la luce filtra dai piani di sopra di sotto però adesso andiamo a preoccuparci di ripristinare un po' com'era una volta questa guerra proprio una cosa che ci tenevo a rimettere a posto perché proprio non mi piaceva quindi andiamo a mettere sempre i nostri blocchi catena e andiamo a fare qualche punto luce extra facciamo una disposizione molto circolare per così dire quanto si può fare su minecraft in realtà è tutto sulla diagonale quindi dovrebbe dare un bell'effetto e adesso qua si tratta soltanto di centrare la hitbox e infatti vedete che è insomma un po' difficile però ce la faremo quindi procediamo andiamo avanti e cominciamo con questa cosettina qua ma seguitemi perché ci saranno dei risvolti interessanti ed ecco l'ultimo voilà tacchete si è un po' più fitta la situazione però devo dire ragazzi che sono più contento mi dà più mi dà più soddisfazione questa disposizione qua che ne dite fatemi sapere fatemi sapere che ne pensate ragazzi e mi raccomando mi raccomando marronsky vuole vostro feedback avete capito fantastico ragazzi fantastico quindi adesso vi faccio vedere in cosa consiste il problemino che avevo prima avendo le lanterne tutte su questo lato quando mi andavo a buttare giù di qua boing adesso vedete che rientro tranquillamente senza sbattere il cranio questo molto bene molto molto bene adesso ci spostiamo proseguiamo con l'episodio perché ci sarà ci saranno un paio di cosettine interessanti fidatevi bene ragazzuoli intanto vi volevo far vedere un pochettino perché sto facendo delle piccole modifiche anche qua sotto volevo riportare un pochettino quei materiali del nether in più ho portato anche le bacche le ho piantate qua così stanno lontane non ci fanno del danno e ho fatto anche qualche altra aggiunta nelle stalle vedete ho aggiunto l'abbeveratoio perché non c'era avevo fatto lo spazio ma non ci avevo ancora messo l'acqua e ho fatto tutte queste modifichine un po' in tutte le postazioni anche di sopra dove coltivo quindi vedete anche qua sto seguendo lo stesso schema stavo pensando anche magari eventualmente di cambiare e le sabbie mobili anche questi blocchi qua magari con della terra delle anime però ci sto pensando adesso vediamo un po' e come vi dicevo anche qua ha fatto qualche qualche piccola modifica insomma avevo spiegato maroschi piano piano si sta dando da fare quindi direi che per il momento qui alla base è tutto ragazzi lo conoscete sto posto ve lo ricordate non ve lo ricordate vero dite la verità insomma non schiesce ve lo fa vedere non so se vi ricordate un tipo 15 20 episodi fa eravamo qui abbiamo fatto una trasformazione apocalittica qui della di una parte del deserto stiamo trasformando tutto con la endstone per fare un bioma personalizzato ora vedete che qui ho lasciato tutto lo scheletro diciamo di com'era il territorio prima quando c'era ancora il deserto ho rimosso tutta la sabbia tutta l'arenaria e ho slabato tutto l'impossibile e immaginabile per cercare di creare comunque un sottosuolo interessante perché volevo fare tutta una serie di passaggi come vedete qui l'erba sta già crescendo mi sono già dato da fare ragazzotti sto partendo diciamo facendo tutta una serie di sentirini vedete destra sinistra cerco di incastrarmi con le caverne che avevo trovato e sto cercando di creare degli scorci un po basati su quello che c'era in natura il terreno eccetera e adesso ho cominciato a delineare tutta una serie di percorsi che attraversano una buona parte di tutto questo sottosuolo perché come vedete anche qui ci sono diverse situazioni interessanti in cui si potrebbe creare qualche caverna particolare chissà 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 comunque sia vedete ha fatto già diversi percorsi magari alcuni finiscono nel nulla altri portano verso altre caverne ci sono dei laghetti che avevo scoperto insomma c'è parecchio c'è parecchio da vedere qui sotto per adesso tutto spoglio però fidatevi adesso procediamo con ordine continuiamo con questo lavoretto e poi vi aggiorno ok quindi la situazione si complica un pochettino qui vicino ai margini perché abbiamo un discreto dislivello e però volevo raggiungerlo quindi vedete che anche qua il sentiero finisce dobbiamo cercare di collegarci con un'altra parte del sentiero e quindi senza snaturare troppo questa situazione cerco un po' alla volta di crearmi il varco cercando di fare anche delle salite abbastanza morbide vedete cerco spesso di guardare dall'alto un po' per capire dove dove scavare e poi chiaramente dove non ci sta noi andiamo a rimuovere direttamente perché dobbiamo crearci lo spazio e non vogliamo sbattere la testa dopodiché mettiamo la terra poi si si tratta spesso e volentieri di disfari fai ed isfa perché insomma voglio cercare comunque di accompagnarlo quindi ragazzi niente non vi tedierò più con questo processo vi volevo giusto far vedere perché interessante e anche qui in questo caso in cui devo salire abbastanza e volevo far vedere un po come sto procedendo per cercare di creare un bel sentierino che accompagna anche le formazioni naturali vedete gira tutto intorno molto molto figo poi non porta da nessuna parte però insomma qualcosina di carino si trova salve coniglietto e qua ce n'è parecchi di coniglietti c'è di tutto qua insomma vabbè andiamo avanti ora ovviamente dobbiamo far crescere anche l'erba perché se vogliamo il sentierino io faccio spesso così parto da un estremo e cerco di alternare un po la volta ci andiamo a mettere un bel blocchettino di di erba e poi piano piano nel frattempo che faccio gli altri sentieri si diffonde e una volta che sarà completo andremo a scavarlo vedete sto cercando di fare anche diversi incroci per fare in modo che sia tutto abbastanza abbastanza collegato e insomma insomma vi faccio vedere anche dall'alto ora è un po' difficile ragazzi farvi vedere mentre si vola però insomma se avete l'occhio attento potete vedere che abbiamo già fatto un bel po un bel po di sentierini sto lasciando crescere l'erba e una volta che avremo finito andiamo a ricavare il sentiero quindi vedete che c'è parecchio territorio e sono molto curioso di vedere che aspetto avrà una volta che sarà tutto chiuso perché ho slabato tutta la parte della pietra proprio perché mi piacerebbe tenerlo quasi del tutto buio il sottosuolo dovrebbe fare una bella atmosfera allora qua per qualche ragione non capisco ma non cresce l'erba quindi ce la piazziamo noi e che problema c'è e quindi ragazzi come vi dicevo si tratta semplicemente di fare di usare la pala ovviamente poi tra uno scalino e l'altro diciamo che andremo a mettere qualche qualche piccolo slab qualche piccolo slab in modo da coprire un pochettino quella piccola linea di pietra che si vede al di sotto ce la faccio ok quindi ragazzi direi che ce l'abbiamo fatta siamo pronti a coprire direi dobbiamo solo mettere gli slab o ma guarda chi c'è qua avete visto avete visto questo ragazzotto oddio oh mini panda ciao oddio che carino oddio oddio ciao che caruccio non c'è la sua mamma perché sennò a quest'ora mi starebbe facendo del danno c'è una volta hai visto ma avete visto una volta che bello ma come mi guarda incuriosito mister panda eccola mitico selfie time bellissimo oddio che belli bene distrazioni a parte ragazzi continuiamo ci sarebbe da fare ancora un paio di cosettine allora intanto come vi dicevo mettere gli slab metterò degli slab di quercia chiaramente e sto cercando di pescare tutte le zone dove l'erba non era cresciuta quindi direi che con questo siamo alla fine e poi dovrei fare anche una sorta di transizione tra i confini vedete dove c'è la sabbia l'arenaria eccetera dobbiamo fare in modo di eliminare le tracce quindi ragazzi ci sarà dell'altro lavoro da fare ma non vi preoccupate ci pensa maroschi in autonomia e vi porterò solo i progressi perché così non vi annoiate bene in pratica ragazzi quello che vi dicevo prima si tratta proprio di questo lavoretto qua io sto andando dove ci sono diciamo i confini dei biomi e quando vedete che c'è la terra dove finisce la giungla delle propria ecco io sto facendo un altro lavoretto che può sembrare abbastanza inutile ma vi assicuro che invece ha il suo perché vado praticamente ad aggiungere un po di blocchi senza creare intrusi vedete qua la terra in questo caso non ci sta a dire niente ma è la stessa cosa che poi farò con la sabbia e con l'arenaria cerco di delimitare un po i confini verticali cercando di fare in modo di alternare un pochettino la pietra con l'endstone perché comunque dato che voglio anche poter visitare il sottosuolo credo che sia un particolare importante fare in modo che questo bioma entri un pochettino anche in profondità e allora dove si presta diciamo che lo lascio così rimuovo giusto la terra quei blocchi intrusi dove noi invece andiamo ad aggiungere anche la pietra e cerco di seguire un pochettino lo schema naturale come vedete ci sono tutte varie altezze discese eccetera cerco di fare sovrapporre un pochettino vedete che fa un bel effetto secondo me da proprio l'idea del terreno che si insinua all'interno di questo sottosuolo poi ragazzi se non lo sapete qua io sto facendo praticamente sempre un'altra cosa ispirata a Miyazaki questo è un mondo dedicato a Miyazaki e anche questa questa cosa qua in particolare è un tributo a uno dei suoi film e dopo magari più avanti nell'episodio vi spiego meglio perché andremo proprio poi nel dettaglio bene ragazzi sembra passata un'eternità forse non per voi ma io mi sono dato molto da fare e direi che abbiamo concluso tutta la parte della preparazione del sottosuolo come vedete ho messo ho messo gli slabettini di quercia perché direi che ci sta molto bene in combinazione con il sentiero vi volevo far vedere un pochettino che adesso diciamo la circolazione è bene agevole non bisogna saltellare qui e là vedete anche ho fatto tutti i confini alti dove si incrocia il terreno con la parte del sottosuolo dove ci troviamo adesso e vedete che c'è abbastanza spazio di navigazione qua c'è un altro bel laghettino qua ci sarà tutto un po il terreno sopra insomma è un po un territorio un po tutto da scoprire poi chissà magari anche qua sotto potremo arricchirlo di dettagli però per adesso non ho ancora piani oltre a questa preparazione che ho pensato di farlo adesso finché non ho ricoperto tutto il terreno perché vedete molto più semplice poter vedere detto ho fatto anche tutti i confini dalla parte della sabbia è stato è stato veramente un bel lavorone però che vedete vedete anche voi che fa un bel effetto fa davvero un bel effetto e ragazzi passiamo a ricoprire il terreno ok 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 allora ecco come vedete ragazzi qua c'è parecchio da fare ci sono svariati buchi e direi che partiamo dalle zone un pochettino più pianeggianti partiamo da qua dietro attenzione c'è una volpe a caccia comunque vedete che sta succedendo sta squartando proprio fa vedere attenzione 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 si prepara l'attacco vediamo l'avete mai visto una volpe che colpisce che spettacolo fantastico bellissimo no le volpi sono veramente veramente meravigliose momento naturalistico a parte andiamo a ricoprire tutto di handstone è anche abbastanza semplice perché io avendo mantenuto diciamo tutto tutta la disposizione del terreno come era in origine se siete curiosi ragazzi andatevi a vedere quel vecchio quei vecchi episodi episodio 20 perché può valerne la pena se siete curiosi di scoprire come ho fatto bene ragazzi abbiamo già ricoperto un discreto una discreta sezione come vedete già un bel direi un 30 per cento forse anche un po di più ok che ne dita andiamo a farci un girettino di sotto perché sono curioso di vedere come risulta ma sono sicuro che fa un certo effetto ora vedete vedete quello che vi raccontavo un po prima fa un certo effetto vedete molto figo molto figo infatti era proprio mia intenzione quello di lasciare quasi tutto buio ad eccezione magari di qualche ingressino di caverna magari qualche cosettina fatta un po meglio magari anche qui dove ci sono i laghetti vedete anche tutta la parte superiore sarebbe sarebbe interessante vedere di trovare qualche altra soluzione per renderlo interessante ora andiamo a vedere anche da tutta quell'altra parte perché anche lì c'è un discreto una discreta quantità di cunicoli vari e vedete che fa un certo effetto molto particolare molto particolare qua bisogna sperimentare un pochettino anche con altre cose non saprei non saprei però interessante qua ci vuole qualche altro tocco però secondo me sono convinto che però diciamo che già vedere quel po di luce magari che filtra crea curiosità interessante vi faccio notare anche appunto dove ci sono i confini che comunque rende tutto più più amalgamato insomma vedete anche qua dove c'è proprio il confine diversamente avrebbe fatto tutto un altro effetto magari si potrebbe anche pensare di creare qualche effetto un attimino più più soffuso invece magari di quelle torce così potenti eccoci qua ragazzi ma dove siamo non avete visto dove siamo non siete accorti dove siamo siamo sempre lì ecco il grande grande rivelazione maronschi sta cercando di portare un po di piante esotiche anche qua in questo bioma personalizzato ok guardate un po ragazzi allora intanto io mi sono procurato un po di nilium e come vedete basta un pochettino di farina d'ossa e ci si ricavano anche i funghetti i funghetti custom ho visto un creeper cosa ci fa lei qui ma come qua come osa ma come se ne vada quindi ragazzotti quindi ragazzotti il giochino è tutto qua allora stavo cercando di crearne un po di più però ho visto che è abbastanza abbastanza fattibile nonostante tutto e userò soltanto quelli deformati questi qua verdi perché ci stanno molto meglio questi qua voilà aiuto un momento di lag ok credite figo molto figo ed è un po quello che vi anticipavo nello scorso episodio perché è appena uscito nether update anzi appena l'hanno annunciato io ho detto yes ragazzi la giungla tossica è finalmente possibile che maronschi un precog e ve l'ho sempre detto quindi ragazzi il piano è proprio questo andiamo a ricreare la giungla tossica del film nausicaa della valle del vento e cercherò adesso di alternare un pochettino la vegetazione anche con piante di chorus i rampicanti contorti qua questi qua deformati un po di piante varie più anche spero di riuscire a inventarmi qualche chicca considerando anche il fatto che dobbiamo nel frattempo produrre soprattutto questi qua i rampicanti i rampicanti contorti che secondo me ci stanno veramente veramente bene accoppiati con la handstone considerando anche il frutto di chorus piante di chorus eccetera e quindi insomma sto facendo abbastanza avanti indietro ho fatto crescere anche qualche nuovo albero della giungla è un po nel confine perché comunque mi piaceva l'idea comunque di proseguire anche la giungla perché appunto la giungla tossica è come se si stesse contaminando la giungla regolare quindi diciamo che era un'idea eccolo qua fantastico e poi aggiungo un gambo e voilà e ce l'abbiamo poi se mi piace lo lascio così se no faccio qualche piccolo intervento aggiungo un po da un po di roba faccio qualche piccola modifica insomma vedete che comincia a diventare abbastanza fitto il paesaggio ed è un po quello che stavo cercando vorrei trovare qualche altro qualche altra vegetazione da poter utilizzare qui in questo contesto ho fatto qualche prova anche con i funghi rossi però non ci stanno proprio bene proprio un pugno in face e mentre invece questa accoppiata qua vince 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 perché anche molto simile al film e si sposa bene anche con le piatte di chorus quindi direi che proseguiamo così sono rimasto a secco di ossa e mi sa che siamo rimasti secco anche qua in effetti si impone una farm di scheletri eh sì sì si impone assolutamente è una delle poche cose che non sono riuscito a fare in questa mappa quindi ragazzi ho pensato anche di farvi vedere un pochettino come comincia a diventare il paesaggio un po da lontano adesso considerate che ho appena 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 iniziato quindi è anche un procedimento abbastanza lungo vorrei aggiungere anche qualche altra chicca sempre cose prese dal film nausicaa e sto provando anche a sperimentare con altri blocchi mangiamoci sto choro suopola e siamo finiti finiti sottoterra la vedete vedete che fa un certo effetto molto figo molto buio molto minaccioso e poi stavo pensando magari di fare qualche altra chicca anche qua facendo qualche cosettina che non si potrebbe fare in vanilla ma ma penso che la farò ugualmente perché aumenterebbe a dismisura l'atmosfera di questo posto però magari magari ne parliamo più avanti perché ci sto ragionando sto facendo un po di sperimentazioni su qualche mappa in creativa quindi vediamo di ritrovare la strada che è di qua ok bello 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 perché ci si ci si perde ci si perde però era un po anche il senso della cosa appunto un perdersi un pochettino bene poi capita qualche volta appunto che l'alberello cresce un po troppo alto e allora mi sono procurato anche la zappa perché se no scavare sta roba veramente sono diventare matti tolgo la parte in eccesso e andiamo a metterci un po di blocchi cerchiamo di farlo abbastanza abbastanza naturale pensate di lasciargli anche questi qua i fungolume perché comunque da un bel effetto anche questi qua un po luminoso molto figo ci si può sbizzarrire abbastanza e poi è un colore che ci sta anche abbastanza bene riprende un po anche la texture della pietra dell'end ci sta bene ci sta bene devo dire che ci sta bene e poi se vedete ragazzi sto cominciando a fare vedete quelle spore di cui vi raccontavo e non sono però del tutto sicuro se se continuarle oppure no perché sì sono abbastanza fighe da vedere però dato che è sul frutto di ciorus frutto di ciorus abbastanza rognoso nel senso che se ci si prende contro poi si smonta tutto non lo so era un po combattuto era un po combattuto sull'idea allora qua magari dovremmo fargli anche un topping si è un po troppo piattone è un po molto piattone poi un'altra cosa cerco di coprirle quelle alte cerco di lasciare in modo che la luce venga magari da sotto o che non sia troppo intrusiva quindi ragazzi questo qua è un bel lavoretto bello impegnativo bello lungo più lungo del di quello che ho fatto nel sottosuolo per certi versi però vedete che comincia a dare i suoi frutti in tutti i sensi in tutti i sensi poi ci saranno varie altre chicche stavo pensando anche di aggiungere altri alberi della giungla a provare a farli mezzi contaminati mezzi avvelenati non lo so non lo so ci sono diverse cosettine che sto sperimentando fatemi sapere magari nei commenti se preferite il frutto di cio rosso classico con questa è la sorta di di spore che ci ho messo in cima perché per oggi ragazzi non c'è più tempo noi ci vediamo il prossimo episodio sperando di aver fatto un bel po di progressi e chissà magari riusciremo anche a completarlo a chi lo sa quindi ragazzi come sempre ma non scrivi da appuntamento al prossimo episodio mi raccomando fate i bravi e state attenti ciao